Apri le sue porte la COT, la centrale operativa territoriale di Arezzo. Uno stabile realizzato interamente ex novo dopo la demolizione di fabbricati fatiscenti presenti in quell'area non recuperabili che a un tempo ospitavano alcuni locali dell'ex ospedale psichiatrico. Un intervento da quasi 610 mila euro finanziato in gran parte con fondi PNRR. Serve per accompagnare le persone che hanno un bisogno di salute e che cambiano posto, quindi dall'ospedale devono andare al proprio domicilio o in una struttura di cure residenziali, territoriali o viceversa persone che dal territorio necessitano, dal proprio domicilio necessitano di cure di livello maggiore. È una sorta di presa in carico e di accompagnamento. Questo è un elemento importantissimo che io ritengo fondamentale per qualificare l'assistenza ai pazienti e alle persone che hanno bisogno in qualche modo di assistenza ed anche per sviluppare percorsi appropriati. Un taglio del nastro che delinea sempre più la cittadella della salute. Accanto alla Cotte infatti ha quasi finito di prendere forma anche il centro per l'autismo. Una struttura di quasi mille metri quadrati suddivisa su due piani per un totale di 32 stanze ospiterà l'attività dell'unità funzionale di salute mentale, infanzia ed adolescenza. All'interno troveranno posto anche i locali da destinare alle associazioni che si occupano di autismo. Vedrà l'apertura probabilmente a fine estate. È un centro per la diagnosi e cura delle malattie di spettro autistico che sono sempre più importanti. e facciamo questo in collaborazione sia con il Comune di Arezzo che ha contribuito con un milione di euro e noi con un milione e sei e anche con tutta l'associazione dei familiari per una partecipazione più proattiva per la presa in carico delle persone affette da questi disturbi.